Camorra, Andrangheta e mafia insieme per fare affari a Milano mettendo in comune capitali e relazioni da lì operazioni finanziarie ad hoc per massimizzare i profitti. Nelle prime ore di mercoledì una maxi operazione dei carabinieri ha portato l'esecuzione di 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere fra Milano e Varese. L'associazione mafiosa secondo gli inquirenti aveva acquisito la gestione di attività economiche in particolare nel settore logistico in quello edilizio sfruttando particolarmente le norme sull'eco bonus ma anche nel settore sanitario con riferimento alle forniture legate all'emergenza covid e alle procedure di sanificazione al servizio delle ambulanze per il trasporto dei dializzati. Non mancano infiltrazioni anche nelle piattaforme e-commerce della ristorazione, del noleggio auto, della gestione dei parcheggi degli aeroporti e del settore petrolchimico. Infine il gruppo era anche attivo nell'importazione illecita di materiali ferrosi. Nelle carte dell'inchiesta per cui i PM avevano chiesto 154 misure cautelari quasi totalmente respinte dal GIP. Si leggono i nomi di diverse famiglie di criminalità organizzata dai fidanzati ai mazzei passando per uomini particolarmente vicini a Matteo Messina Denaro alle storiche locali di Indrangheta della Lombardia fino ai Senese figura centrale dell'indagine. Era proprio un uomo di questo clan, il 37enne Gioacchino Amico, considerato da investigatori e inquirenti il riferimento del sistema Lombardo. E non mancherebbero nemmeno i coinvolgimenti della politica perché uno degli indagati avrebbe infatti più volte incontrato il sindaco e altri esponenti della giunta di un comune della provincia di Milano. L'operazione ha portato anche al sequestro di beni per un valore complessivo di oltre 225 milioni di euro e alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini nei confronti di 153 indagati, tra cui anche alcuni residenti fra Magenta e Abbiategrasso. In particolare, l'attenzione era rivolta sulla città di Milano e il suo Interland sulla città di Varese e la sua provincia, il Sodalizio, era formato da soggetti legati alle tre diverse organizzazioni di stampo mafioso, Cosa Nostra, Drangheta e Camorra, come si legge nella nota degli investigatori.